Oh, say can you see, by the dawn's early light, what's so proudly we... Buongiorno. Oggi, come ogni ultimo lunedì di maggio, in America celebriamo il Memorial Day, una festa federale in memoria dei nostri concittadini caduti al servizio della patria. Quando mi domando cosa porta dei comuni cittadini ad affrontare le sfide delle guerre e ad essere disposti a mettere in pericolo le proprie vite, capisco che si tratta di valori condivisi, lealtà, dovere, altruismo, onore, integrità e coraggio. Tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita per il proprio paese sono eroi. Quando sono stati chiamati, hanno risposto. Ognuno si è assunto la responsabilità di servire fidelmente la nazione. Continuiamo a onorarli, non dimentichiamoli mai. Tutti gli uomini, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli. Detattare il belale. Fall in! Fall in! Fall in! Fall in! Fall in! RACS! Platoon, active, hood! Hey everyone, my name is Sergeant Brownlee, first name Anthony. I've been to three posts so far now, and this is my third and final post. I'm currently the Assistant Detachment Commander. Hi everyone, my name is Sergeant Nakia Bowens. I'm from Greenville, South Carolina. I'm an infantry rifleman, an 0311. My hobbies are going to the gym, traveling the world, and reading books. Hi, my name is Sergeant Nathan Jamali. I'm from Vienna, Virginia. I got here last year in July. I currently am the vehicle NCO here at Detachment Milan, and I've enjoyed my time while I've been here. Hello, my name is Corporal Joshua Spohomson. I'm from Seattle, Washington, and Milan is my first post. My hobbies are basketball and music. Thank you very much. I won't be描 climatic. Thank you.